Benvenuti nel mio canale. Oggi ti porto un'anticipazione che ti coinvolgerà in modo profondo. Fikret finalmente cederà e racconterà il suo terribile passato oscuro a Fekeli. Siete pronti ad immergervi in questa fantastica anticipazione di terra amara. Iniziamo. In una serata come tante altre, Fekeli si avvicina a Fikret e gli domanda. Perché ti stai scagliando con tanta cattiveria contro gli Yaman? Fikret. Abbassando lo sguardo, non gli risponde. Con tanta rabbia, Fekeli gli ricorda le numerose volte in cui ha cercato di mettere Demir sotto riflettori negativi. Vorrei sapere il vero motivo dietro a questi tuoi gesti, esclama Fekeli. Demir ha fatto certamente i suoi errori, ma ha mostrato compassione verso Ilmaz. Perché non riesci a vedere oltre ciò che è accaduto? Fikret. Risponde. Hai mai avuto una paura dentro? Una verità che cambierebbe ogni cosa? Fekeli. Cerca di capire dove sta andando Fikret. Fikret svela il suo più grande segreto. Adnan è mio padre. La rivelazione lascia Fekeli completamente sconvolto. Davanti a questa incredibile rivelazione, Fikret, si rivolge a Fekeli. Adesso capisci perché sono tornato qua dopo tutti questi anni? Dice Fekeli. Fekeli risponde. Sospetto che tu abbia degli affari in sospeso qui, forse legati a vecchie ferite. Fikret confessa con determinazione. Sono tornato per vendicare il tormento che mia madre ha dovuto sopportare. Adnan ha tradito mia madre, rifiutandola insieme al frutto del nostro amore. Fekeli esclama con un'espressione di incredulità. Ribattendo. Stai forse basando tutto su semplici voci? Sai quanto possano essere ingannevoli? Ma Fikret, con una determinazione fredda, risponde. Non si tratta solo di voci. Mia madre, con le sue ultime parole, mi ha rivelato la verità. La rivelazione lascia Fekeli senza parole. Fikret prosegue. Dopo la sua morte, ho scoperto delle lettere scritte da Adnan, colme di disprezzo e odio. La insultava, la minacciava e la faceva sentire inferiore. Fekeli. Con il cuore pesante, esclama. Quanto dolore può sopportare una sola famiglia? Con uno sguardo penetrante, Fekeli interroga Fikret. Dove si nascondeva Musa mentre il destino giocava con voi? Fikret risponde con un profondo sospiro. Musa, l'uomo che mia madre aveva scelto come compagno, l'aveva abbandonata in questo luogo desolato, perdersi nelle grinfie del gioco d'azzardo, trascurando ogni responsabilità. Le parole di Fikret svelano un passato oscuro e doloroso. I debiti si ammassavano come nubi tempestose, e mia madre, abbandonata, doveva affrontarli da sola. Musa era un'ombra, raramente presente, continua la voce carica di dolore. A causa di questi debiti, mia madre fu ridotta alla fame, e la sua dignità le impediva di chiedere aiuto. Si sottomise a lavori umilianti pur di sopravvivere. Fekeli esclama. Avrei dovuto esserci, avrei dovuto proteggere tua madre da Musa e dalle sue negligenze. Fikret, cercando di consolarlo, risponde, non puoi portare il peso di tutto. Musa ha scelto il suo percorso, un percorso di distruzione. Ma Fekeli, con una domanda che brucia come il fuoco, chiede, Adnan ha mai fatto del male a tua madre? Fikret, con gli occhi lucidi, rimane in silenzio. Fekeli, con voce tonante, insiste. Rispondi, Fikret, con voce tremante. Risponde. Perché dovrebbe importare se l'ha tradita o costretta? La sua crudeltà era evidente in ogni gesto. Fekeli, con un tono inquisitorio, chiede. Dopo la tua nascita, Musa credeva di essere tuo padre? Fikret, con un cenno del capo, conferma, sì. Fekeli, con uno sguardo inquisitorio, interroga Fikret. Come ha fatto Musa a scoprire la verità? Fikret, con un tono lontano, risponde, quando Musa ha scoperto tutto, ci ha cacciati dalla casa. Ero solo un bambino, perso e terrorizzato, vagando per le strade fredde, mentre mia madre, con il cuore spezzato, mi stringeva a sé, cercando di proteggermi dal mondo crudele. Fekeli, con tono rimproverante, chiede. Perché non hai cercato di conoscere il tuo passato prima? Perché hai scelto di rimanere in silenzio fino ad ora? Fikret, con gli occhi lucidi, risponde. Da giovane, volevo seppellire quei dolorosi ricordi. Ma erano catene che non potevo spezzare. Da adulto, temevo di riaprire le ferite di mia madre. Così abbiamo affrontato il nostro passato solo quando la morte la sfiorata. Con un sorriso amaro, Fikret continua. È ironico come Adnan abbia eretto monumenti in suo onore a Cukurova, dipingendolo come un eroe. Ma Adnan non aveva nulla di nobile, ed Emir non è l'unico segreto che Adnan ha nascosto. Chi, cercando di placare la tempesta emotiva, interviene. Dobbiamo mantenere la calma e affrontare la verità con saggezza. Ma Fikret, con una rabbia ardente, ribatte, Adnan era un impostore, e presto tutta Cukurova conoscerà la sua vera natura. Fekeli, con un tono pacato ma fermo, dice a Fikret. Adnan giace ormai da tempo sotto il velo dell'eternità. Perché risvegliare ombre del passato quando lui non può più rispondere delle sue azioni? Poi aggiunge, il rancore è una catena che ti imprigiona. Il passato non può essere cambiato. Perché insisti nel cercare vendetta su Demir? Fikret, con la voce carica di emozione, risponde. Mentre Demir cresceva nel lusso. Io pativo la fame, lottando per ogni briciolo di cibo. Non è giusto. Non se lo meritava. Fekeli cerca di raggiungere il cuore di Fikret e ribatte. Ma quale colpa ha Demir per le azioni di un padre quando lui era solo un bambino? All'oscuro di tutto, Fikret esclama con un grido di disperazione. Anche io ero un bambino innocente. Perché dovrei essere l'unico a portare il peso degli errori di Adnan? Ora è il turno di Demir di affrontare il peso di quel passato. Fekeli, con un tono di rimprovero, chiede. Perché non hai cercato di conoscere il tuo passato prima? Perché hai scelto di rimanere in silenzio fino ad ora? Fikret, con gli occhi lucidi, risponde. Da giovane, volevo seppellire quei ricordi dolorosi. Ma erano catene che non potevo spezzare. Da adulto, temevo di riaprire le ferite di mia madre. Così abbiamo affrontato il nostro passato solo quando la morte l'ha sfiorata. Con un sorriso amaro, Fikret continua. È ironico come Adnan abbia eretto monumenti in suo onore a Cukurova, dipingendolo come un eroe. Ma Adnan non aveva nulla di nobile, e Demir non è l'unico segreto che Adnan ha nascosto. Chi, cercando di placare la tempesta emotiva, interviene. Dobbiamo mantenere la calma e affrontare la verità con saggezza. Ma Fikret, con una rabbia ardente, ribatte. Adnan era un impostore, e presto tutta Cukurova conoscerà la sua vera natura. Fekeli. Con un tono pacato ma fermo, dice a Fikret. Adnan giace ormai da tempo sotto il velo dell'eternità. Perché risvegliare ombre del passato quando lui non può più rispondere delle sue azioni? Poi aggiunge. Il rancore è una catena che ti imprigiona. Il passato non può essere cambiato. Perché insisti nel cercare vendetta su Demir? Fikret. Con la voce carica di emozione. Risponde. Mentre Demir cresceva nel lusso. Io pativo la fame. Lottando per ogni briciolo di cibo. Non è giusto. Non se lo meritava. Fekeli cerca di raggiungere il cuore di Fikret e ribatte. Ma quale colpa ha Demir per le azioni di un padre quando lui era solo un bambino? Fekeli. Con un tono di disperazione. Ribatte. Il tuo dolore risuona anche nel mio cuore. Ma Fikret. Con voce tagliente. Esclama. Non hai diritto di intrometterti nei miei affari. Non sei sangue del mio sangue. Musa non era mio padre. E noi non siamo una famiglia. Fekeli. Con gli occhi lucidi. Risponde. Il legame del cuore va oltre il sangue. Guarda. L'ho amato come se fosse mio figlio. E la sua perdita mi ha spezzato l'anima. Fikret. Con un sospiro profondo. Dice. Mi dispiace per le parole affilate che ti ho lanciato. Ma ti prego. Stai lontano da me. Non voglio che la mia vendetta ti travolga. Fekeli. Con determinazione. Risponde. Ho visto i tuoi primi passi in questo mondo. Ti ho amato come un nipote. Dopo aver sepolto i miei tre figli. Sei l'unico legame che mi resta con la vita. Fekeli. Con voce tremante. Dice a Fikret. Non posso sopportare di perderti. Non dopo tutto ciò che ho già perso. Lascia andare il tuo rancore. Accetta le ombre del passato e trova la luce nel presente che ti attende. Fikret. Con gli occhi lucidi. Risponde. Non chiedermi di dimenticare. Perché è una ferita che non può guarire finché avrò fiato. Demir pagherà. Fekeli. Con un tono carico di determinazione. Ribatte. Se questo è il destino che hai scelto. Allora dobbiamo essere nemici. Sappi che farò tutto ciò che è in mio potere per fermare la tua sete di vendetta. Anche se ciò significa oppormi a te. Fikret. Con un sospiro profondo. Risponde. Allora che il destino decida il nostro cammino. E mentre il vento di Chukurova sussurra segreti antichi. I due uomini si preparano a fronteggiare il loro destino. Cosa ne pensi di questa situazione? Se per caso vorresti altri video scrivi. Non vedo l'ora nei commenti. Iscriviti e lascia un mi piace. Ciao.